vediamo come far sì che i supporti si stacchino dall'oggetto che noi facciamo uscire dalla stampante mi è capitato spesso di dover staccare supporti da una stampa piccola vediamo come è fatto questo oggetto, vedete c'è un perno piccolo e nel tirarvi i supporti si spaccavano i perni e questo era un grosso problema perché dovevo ristampare più volte l'oggetto ma anche da stampe non delicate mi è capitato di non riuscire a tirarvi i supporti questo supporto qua può essere facile da staccare se no non so se è abbastanza per fare quello che stiamo facendo io aumenterei subito il riempimento del supporto e lavorerei con un riempimento abbastanza alto, medio-alto, 20% se lavorate con i parametri di base del supporto è 0.7 in xy la distanza tra xy e 0.7 dalla stampa è distante a 7 decimi quindi invece distanza dalla lasse z alto-basso è a 1 decimo se il supporto volete che si stacchi facilmente soprattutto per questo tipo di stampa io lavorerei a 1.2 di xy e lascerei 0.1 distanza dal piano superiore questo perché? Perché il mio piano superiore lo voglio fare bene si stacca comunque bene perché è staccato dai perni se facciamo fatica a staccarlo dalla superficie quella inferiore azzardiamo a 0.2 tanto la stampa esce allo stesso questo è un piccolo segreto sul come gestire i supporti e far sì che si stacchino meglio dai nostri oggetti dovete sempre tenere presente che la stampa deve uscire bene quindi non azzardate troppo nel distanziarli alla prossima